buongiorno a tutti bella raga siamo ritornati in questo nuovo video dopo tanto tempo dopo tantissimo tempo mauro dei problemi e quindi ora siamo ritornati allora oggi oggi che cos'è oggi allenamento allenamento bicipiti e tricipiti oggi allenamento questo sarà un video di gristo di gristo motivazionale come via come avevo sempre abituato mua bene lasciamo e andiamo in palestra bella bella da regalo detto non si inizia con riscaldamento poi si parte subito corpicio bacio iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale è 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 con manubri con manubri con manubri vabbè qui le spiegazioni non ce ne stanno tante che è il classico esercizio per i bicipiti ho fatto molto lento che se non si chiamava concentrato mortacci vostra allora adesso abbiamo la french press per i tricipiti quindi portarla a portare bilanciare alla fronte e concentrare tutto quanto il movimento sui tricipiti adesso vi faccio vedere come si fa poi lo porta alla fronte i gomiti cercate di tenerli sempre più fermi possibile più stretti possibile anche se non ci riuscite fate sempre il massimo cioè teneteli sempre più stretti possibile quindi poi faccio vedere cioè non arragare i gomiti quindi farlo che non so tipo così che non serve per niente gomiti stretti la direzione corretta è questa guardare quella che sta facendo adesso vai vedere come lavora il tricipite come si isola esecuzione perfetta ragazzi questo ok ragazzi ora abbiamo il fist down con corda il movimento è sempre lento è praticamente l'esercizio inverso di quell'altra dei bicipiti vede come lavora il tricipite regà allo scendere allargati la presa come sta facendo lui muovi vedi quando scende lui allarga la presa e i gomiti sempre immobili ora abbiamo le parallele l'importante per questo esercizio è guardare sempre dritto e di non scendere troppo con i gomiti in questo modo non dovete fare questo movimento ma questo allora adesso abbiamo i piegamenti con il palmi verso l'esterno che siamo scordati di quello però fate finta che siamo scordati in super serie con le patatele quindi adesso facciamo l'esterno e facciamo i soliti piegamenti per sfinire il tuo gile grazie grazie comando ragazzi mi dite la megagia un sacco di impressioni piegamenti con questi ragazzetti guarda che ti sei mangiato? un ex ogino che ti sei mangiato? sì no no i don't wanna waste what's left and on and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow through the sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on we'll go Grazie a tutti.